In settembre in poi che cosa farete? Stiamo dicendo su quale iniziativa fare a settembre perché abbiamo un elenco di ricchi che stiamo sondando. Ad ottobre stiamo organizzando un grande evento sull'innovazione delle start-up dove chiameremo delle start-up già fermate sul territorio piemontese, qualche venture capital o personaggio importante che si è già realizzato, casomai anche un assessore della giunta che si cooperà degli ambiti di lavoratore di innovazione. Quindi questo per dare, per esempio ogni anno facciamo un evento che permette di dare visibilità dal basso della realtà di impresa vincente piemontese e di far capire come le istituzioni o i venture capital ci supportano in questo. A seguire avremo delle attività, degli incontri speed dating, quindi dove le imprese si incontreranno, generalmente un numero di 50-60 persone, varie cene aperitivi che sono stati richiesti da associazioni e da aziende, quindi forse dicembre, gennaio faremo alcuni interventi in questo video. Però anche su questo tema qua, se qualcuno è interessato a promuovere delle iniziative imprenditoriali o incontri di alto livello, noi siamo sempre pronti a sentire queste cose. Bene, ci auguriamo che questi intenti siano raccolti attraverso i vostri canali e anche attraverso il nostro e quindi ci diamo appuntamento a dopo le ferie. Grazie Marco. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie.